Ok, vai, fuori e giù, buono, adesso dietro il giallo, passa dietro il giallo, chiusi e giù, molto bene, bravissimo, dietro il blu, però devi fare il movimento questo, piede scacciapiede, dai, dai, dietro il rosso, dietro il rosso e giù, apro e giù, bravissimo, torna a posto, 10 secondi, prendi fiato e ricominciamo, molto bene, Matte, pronti al pallone, ok, molto bene, molto bene, un po' più veloce a tornare su, ma molto bene, quando vuoi, bravissimo, con tutte le mani sul pallone, molto bene, oh, bravo, mi piace, perché stai ascoltando quello che ti ho detto le settimane scorse, bravo, Matte, bravissimo, bravissimo, vieni qua perché ti metti subito un doppio 5, ma bravissimo, bravo, vuol dire che mi ascolti e che memorizzi, molto bene, bravo, bravo, Matte, ok, cerca di non andare così lontano col primo passo dal cinesino, da lì, ok, bravo, più, più, Matte, più convinto ancora, con le braccia più lunghe sul pallone, distenditi, bravissimo, dai, Matte, fuori e stenditi, bravo, bravo, dai, ancora una, tantissima roba, eh, bravissimo, più disteso, più disteso, guarda, questa sei arrivata così, eh, bene lungo, bene lungo con le braccia, le hai fatte bene fino adesso, e giù, ok, dai, dai, più disteso, più disteso, forza, fammi l'ultima fatta bene, bravissimo, bravissimo, ok, facciamone ancora una, proviamo ad allontanare un pelo perché non è fatta con il cinesino, ah, lui, guarda il cinesino, ah, lui, guarda il cinesino, ah, il cinesino, anche io abito ancora il cinesino, lui, quando era piccolo, ha iniziato lì, qua mi è scomodo portarlo per me, eh? Anche a Fisnova lo alleno io, vai, oh, molto bene, molto bene, dai, bene fuori, apro e chiudo, e apro e spingo, più, eh, vai bene lungo, vai bene lungo, ti ho allontanato apposta, eh, dai, dai, giù bene lungo, bravissimo, parliamo di stenderci, molto bene, Matteo, e giù, molto bene, l'ultima non hai disteso bene, ma va benissimo, bravo,